Consigliere, siamo arrivati nella sua presenza, giusto due paroline, che siamo molto in ritardo, però ci fa piacere averla qui tra noi, magari dà un caloroso saluto a questo pubblico, di tutta la fisica. Allora a questo punto vi ha convinto, grazie per questa opportunità, convimenti a chi ha organizzato questa bellissima manifestazione, benvenuti a Tassoncetta, grazie per essere qua. Come ho detto, come va, questa è una manifestazione, al di là dell'aspetto agonistico, della vostra disciplina, circa mille atleti che hanno portato qua un tempo di oltre 5.000 persone, come consigliere di questa città, però ho grato a chi ha organizzato questo evento, con l'impegno per il futuro e la nostra possibilità di poter sostenere queste iniziative, perché hanno portato molto lustro alla nostra città, la gente che ha avuto avuto un'altra spesa, quindi che benvengano queste manifestazioni, grazie ancora a chi si è impegnato per il tanto sacrificio, per ottenere questo risultato, che è bellissimo, già arrivare fuori, vedere 10 e 8.000 persone per tutte le macchie, vuol dire che la macchina, la macchina è una cosa che si va funzionando, è un buon complimento da parte mia, mi permette di dirlo anche al nome della città, che mi onoro di rappresentare. Chiamiamo l'organizzatore della manifestazione Massimiliano Cilasa, che premierà il nostro consigliere. Ah, il consigliere premierà gli atleti, allora ci sta un po' con noi, va bene? Grazie consigliere, continuiamo con le pregazioni. Sincro a tema, duo, classe Rising Star, 12-15, una sola coppia da premiare, Saraceno Angelo e Leggio Luca, Swing Dance.